Buongiorno Non ho il coderno E allora ti metto una crottina E c'è la terza, quindi portami il libretto Non ho il libretto Posso andare in bar Vai per questa volta Grazie Mi interrompo di oggi Portami il libretto E' mai giocato per Giulia? No Perché si è una sfidata Ragazzi fuori c'è merenda Un attimo E no, Tommaso e Giulio fuori Lorenzo è fuori Un po' la merenda Vai! Grazie Buongiorno! Posso andare buono? Vai, per questa volta! Ottimo! Porta qua subito il libretto! Dai! Come ti permette di portarti in questo modo? Dobbiamo iniziare a trovare indifferenza a scuola. E quindi? E quindi se non fai il nuovo ti perchi 4 giorni di sospensione. Ho fatto un po' l'amore così. Hai mai giocato per Giulia? No. Perché? Si è una sfidata. Ragazzi, fuori c'è verità. Un attimo. Eh no, Tommaso e Giulia fuori. Lorenzo è fuori. Il posto è merenda. Dai! Come? Dai! Ci giocano tutti quanti? Dai io! Non si è sfidata. Ragazzi, fuori c'è merenda. Un attimo. Giulia e Tommaso fuori. E anche Lorenzo. Ci sono. Il posto è merendio. Dai. Spinnin' TV Spinnin' TV Spinnin' TV